eccoci qui ciao ragazzi in un nuovo video davide nico qui con voi oggi molto in breve perché devo andare a fare dei raid di raikou oggi c'è l'ora leggendaria ma prima voglio fare questo arlo per trovare si sa mai un bel doom shiny che purtroppo non ho ancora trovato ma qualcun altro si e quindi senza perdere tempo battiamo arlo sperando di darci da muovere che poi devo andare a fare i raid tra tipo 5 minuti quindi che pokemon ha arlo il primo bel doom ovviamente quindi mettiamo davanti un bel reshiram poi mettiamo il solito melmetal e poi non lo so nemmeno io cosa mettere facciamo garchomp e melmetal che anche garchomp ha le mosse comunque doppie reshiram lo butta giù in un secondo bel doom e quindi partiamo così ragazzi sperando di fare bella figura subito e poi andare a fare i raid di raikou eccolo qua bel doom mi piacerebbe un bel bel doom shiny ombra da potenziare se fosse anche forte poi ma so che ovviamente chiedendo troppo ragazzi comunque eccolo qua bellum che ci saluta così poi vediamo cosa c'è subito dietro no agron ok usiamo vampata e cambiamo manderò melmetal che ha le mosse di tipo lotta a troppo forte userò frana per fargli usare lo scudo e poi usiamo troppo forte molto molto tranquillamente ovviamente tac frana fatta lasciamo andare tutto facciamo usare gli scudi ragazzi ovviamente come al solito e poi facciamo troppo forte in modo da buttarlo giù subito questo agron subito si spera non lo so eh in quanto tempo andrà giù vediamo un po' cercano di fare eccellente anche usando una mano sola dovrei riuscirci sì troppo forte benissimo ho tolto abbastanza vita ovviamente mi cala l'attacco eccetera ma io utilizzo un altro attacco e facciamo frana tranquillamente visto che ha così poca vita e poi vediamo cosa c'è dopo vediamo se è il caso di cambiare o no il pokemon vediamo un po' salamens salamens che posso tranquillamente battere con con come si chiama garciomp adesso rimandiamo a reshiram giusto per fare un attacco farli consumare magari un po' di vita magari se ci attacca uso lo scudo adesso vediamo un po' tanto ho un pokemon in più vediamo di utilizzarlo visto che ancora non ho messo garciomp sono tornato dentro con il reshiram vampata che non dovrebbe farlo fuori e mi fa diminuire l'attacco ma vabbè finché ci siamo rimaniamo dentro forse potevo mandare garciomp e fregarmene totalmente però vabbè ho voluto mandare il reshiram così fa un po' il suo drago bolide ovviamente parato e facciamo un'altra vampata anche se lo attacco più basso eliminiamo questo garciomp e questo salamens senza fare troppa fatica e senza mandare il garciomp appunto boh fatto ragazzi attacco diminuisce di molto ma chi se ne frega sconfigge un leader si vabbè tutte le missioni tra l'altro adesso facciamo anche il check delle missioni ragazzi perché ho ancora la missione di yoto assolutamente da fare vediamo dai veloce che devo andare a fare i raid dirai il kou dai 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 815 rocket su 1000 per la medaglia oro salva pokemon 12 check bel doom normalissimo 190 pl non so quanto sia valido forte ma vabbè gli diamo una baccana nas e cerchiamo di catturarlo molto in breve ragazzi perché devo andare a fare questi raid l'ho detto 100 volte nel video già catturato ok devo anche fare il check su un pokemon leggendario che non avevo ancora fatto ragazzi visto che l'evento si è prolungato un pochino 115 13 che non so se potrebbe servire a qualcosa nel pvp però vabbè lo teniamo facciamo che lo chiamiamo pvp punto di domanda e poi andrò a controllare molto strano questo bel doom avrei preferito lo shiny rispetto a uno buono eventualmente per i pvp che non ha molto senso e adesso finalmente ragazzi andiamo a fare il check su ah no devo catturare sto robo che sarà snorlax siamo in febbraio ufficialmente quindi devo fare questa prima affrontalo subito uno snorlax 1378 pl che non me ne faccio nulla quindi muoviamoci a catturarlo che devo fare il check e poi devo andare a fare i raid assolutamente mi staranno già aspettando e mi staranno smadonnando dietro essendo uno youtuber ragazzi catturato snorlax dai 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 sto cercando di fare in fretta e basta valutazione 98 questo snorlax benissimo mi aspettavo il bel doom 98 e non lo snorlax queste missioni cosa sono purifica tre ombra miss drevus via via facciamole tanti check anche oggi ragazzi vi porto sempre una marea di check altro fantasmino non shiny e finalmente andiamo a fare i check che mi interessavano festeggiamenti di yoto revitalizzanti iper pozioni pozioni max e adesso rivendica ricompensa questo oh che non è shiny 1633 pl non so se è forte o no adesso vedo di catturarlo sperando stia dentro subito e questo oh ragazzi alla mossa legacy terremoto ottimo per i pippi ovviamente se fosse stato shiny sarebbe stato il top ma no ovviamente no mai nella vita però per uno scambio laki forse a meno che sia forte ma essendomi già uscito uno snorlax 98 non è che spero in qualcosa di simile ovviamente ho già sculato mi sono giocato la sculata di oggi con uno snorlax ragazzi che non mi serve praticamente a nulla questo oh oh maledetto non sta nemmeno dentro vediamo di sbrigarci ovviamente potrei fare tiri migliori ma sono un po di fretta sto lanciando con una mano sola adesso se non sta dentro neanche la prossima ragazzi taglio e vado a fare i raid e lo lasciamo per dopo la cattura di questo oh oh che non vuole stare dentro uno due ok sono riuscito a catturarlo ragazzi e lo valutiamo perché ti devi spegnere luce accenditi devo fare così ragazzi non prendete paura ok siamo tornati ufficialmente allora oh oh catturato 13 12 12 15 senza perdere altro tempo ragazzi io direi di fare un check su questo mark row e di correre a fare i raid di raikow ok avevo troppi leggendari in una volta sola raid di raikow ragazzi e check shiny ovviamente e speriamo di trovare qualcosa di interessante e di forte magari a dopo ok ragazzi spero che si veda hai vinto sale l'amicizia e facciamo un bel check rapido tre rare poteva andare meglio non si vede tanto bene comunque diciamo che vi assicuro che si vedrà se sarà shiny o no vediamo iniziamo con un non shiny 1906 pl purtroppo quindi niente questo proviamo a catturarlo e facciamo il prossimo raid sa ragazzi altro giro altro regalo speriamo che sia un regalo se userò terremoto con graudon cosa dite tac anche questo raikow è andato vediamo quanti pl 1933 siamo impazzati rispetto a prima 7 9 3 rare ancora poca roba tanto si vedrà malissimo lo schermo ragazzi ma spero non mi perdonerete comunque bella sfida bonus niente shiny 1933 pl quindi questo è un pochino meglio di prima vediamo di catturarlo e poi facciamo l'ultimo raid della giornata perché che riguarda questi raikow eccoci qui ragazzi nel terzo e ultimo check di oggi con raikow ho fatto il quarto cuore con qualcuno credo cavolo però avevo forto un uovo attivo 12 rare meritatissime tra l'altro ragazzi non si vede nulla cioè c'è un lampione da in fondo e basta comunque vai allora check se ci fosse uno shiny o uno forte sarebbe super top considerando che ho preso 12 rare ragazzi uno due vai niente shiny vediamo quanti pl 1920 quindi niente di che direi che possiamo concludere questo video ma prima di chiudere voglio salutarvi in un altro modo perché devo fare un unboxing alla fine ragazzi ho ceduto altro giro altro raid e qualche rara 6 bene benissimo ragazzi cercando di essere un po' spediti così non faccio durare 100 anni questo video niente shiny neanche stavolta e 1939 penso il più alto che sia mai uscito che sia uscito in questi raid insomma lo catturiamo poi vi dico dopo se è forte o no ragazzi sono sempre il solito birbantello ragazzi stavo per rientrare in casa e si schiudono le ovette da 12 chilometri quindi non perdiamo tanto tempo che ho voglia di andare a casa vai qui dentro può esserci dello schifo totale come la maggior parte delle volte succede con queste uova come può esserci possono esserci delle grosse sorprese quindi bando alle ciance vai check mi prude il naso primo uovo absol che se fosse stato shiny mi sarebbe servito dato che io ancora non ho absol shiny 13 12 10 quindi schifo secondo uovo per noi ragazzi vediamo un po' uovo da 12 chilometri sempre quindi quello che danno i team rocket vai un vullaby banalissimo 695 pl vediamo se è forte direi proprio di no terzo e ultimo uovo da 12 chilometri vai check check che poi è una schiusa vai 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 vediamo un trabbish ridicolo 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 544 pl 10 15 14 che fa schifo e quindi adesso spegniamo ufficialmente il gioco e torniamo a casa ragazzi direi che è ora eccoci qua ragazzi sono ufficialmente arrivato a casa e al volissimo visto che direi co forti non ne abbiamo trovati vi faccio vedere anche questo piccolo unboxing velocissimo se ce la facciamo perfetto tac hopla c'è tutto si dovrebbe essere arrivato tutto allora semplicemente mi è arrivato un caricatore che proverò caricatore wireless non wireless praticamente eccolo qua ci appoggiate il telefono e si carica dopo lo apriamo ovviamente questo è un semplice caricatore da macchina da collegare nella presa 12 volt e questi sono dei semplicissimi cavetti per il mio cellulare che sono tipo corti sono dovrebbe essere 30 centimetri quindi sono circa tanto così e basta con questo piccolissimo unboxing di cose che mi servivano che non prendevo da un po e soprattutto devo sostituire cavi e soprattutto caricatore della macchina che ho già dovevo sostituirli praticamente ho preso queste cosettine al volo e basta noi ci ci vediamo in un prossimo video un saluto da davide nico e commentate qui sotto ditemi ovviamente se avete trovato qualche ride con forte io non ho trovato nulla di nulla nello shiny nel forte eccolo qui e basta ragazzi like iscrivetevi al canale ma solo se ne avete voglia e seguitemi anche su instagram davide nico 92 ci vediamo in un prossimo video ciao